A Capitan Loconte sono arrivate decine di segnalazioni di mamma e papà di bambini disabili, chiedono più educatori a scuola, sono di competenza della provincia e per questo andiamo a chiedere al presidente della provincia Francesco Schittulli una promessa sull'implementazione del servizio. Le mamme e i papà vogliono che il servizio venga implementato e vogliono tanti più educatori che ascoltino e seguono i propri figli. Mi sembrava una richiesta giusta, opportuna, doverosa da parte delle famiglie. In effetti gli educatori sono pochi ma le risorse sono ancora di meno e quindi siamo in tema di distrettezze quasi soffocanti del resto che si ripercuotono anche sulla famiglia. Ciononostante però un capitolo a parte l'ho riservato a questa situazione perché soprattutto i bambini e soprattutto poi i bambini più bisognosi sotto ogni aspetto meritano un'attenzione particolare da parte delle istituzioni e l'impegno è quello di implementare anche il numero degli educatori. Noi siamo fuori dalle leggi, fuori dai decreti e dai bilanci. Vogliamo la parola d'onore del presidente Schittulli che ci dica una data più o meno su quando questo servizio possa essere effettivamente implementato. Se dipendesse soltanto da me direi da subito per la mia connotazione pragmatica. Questo dipenderà anche dagli uffici e dal bilancio che dovrebbe essere approvato il mese entrante. E quindi noi saremo qui a controllare che questo avvenga? Certamente sì. Sarà un'opportunità anche per me. Grazie a tutti.